In questo tutorial vediamo degli esempi di disequazioni fratte non ridotte a forma normale. Partiamo da questo primo esempio. Per risolvere questa disequazione, come prima cosa, dobbiamo riscrivere la disequazione in forma normale. Per far questo, porto un nono a primo membro, 4 fratto 3x meno un nono minore uguale di 0. Ora eseguo il minimo comune multiplo tra 3x e 9. Il minimo comune multiplo risulta essere 9x. 9x diviso 3x si ottiene 3 per 4, e scriviamo 12. Meno 9x diviso 9 si ottiene x moltiplicato per 1 e scrivo x, minore uguale di 0. Ottengo così una disequazione fratta scritta in forma normale. E adesso andiamo a studiare il segno del numeratore e del denominatore. Visto che vi è un simbolo di uguale, il numeratore lo poniamo maggiore uguale a 0, mentre il denominatore si pone soltanto maggiore di 0. Per quanto riguarda il numeratore, ricopio 12 meno x maggiore uguale di 0. Porto il 12 al secondo membro, meno x maggiore uguale di meno 12, ed ora moltiplico tutte e due membri per meno 1, cambiando verso alla disequazione x, minore uguale di 12. Passo ora al denominatore. Abbiamo 9x e allora scrivo 9x maggiore di 0. Divido tutte e due membri per 9 e semplifico il coefficiente della x. Ottengo così x maggiore di 0. Vado ora a rappresentare il segno del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore sappiamo che è positivo per valori minori di 12. Individuo 12, in corrispondenza di 12 metto un pallino perché qui vi è un uguale e prima di 12 tiro la linea continua. Dopo di 12 la linea tratteggiata. Passo ora al denominatore. Sappiamo che è positivo per valori maggiori di 0. Individuo 0, a destra più e prima metto meno. Eseguo ora il prodotto dei segni. Più per meno ed ottengo meno. Poi abbiamo più per più ed ottengo più ed infine meno per più ed ottengo meno. In corrispondenza di 12, visto che c'è un pallino, metto 1 uguale a 0. Per ricordarmi che se al posto della x sostituisco 12 questa frazione si annulla. Vado ora a vedere la domanda. Risulta essere questa ed è il segno prima di aver separato il numeratore dal denominatore. Il minore di 0 lo vedo in questo intervallo e in questo intervallo. L'uguale a 0 lo vedo in corrispondenza di 12. E allora la soluzione sarà x minore di 0 bel x maggiore uguale di 12. Passiamo a questo secondo esempio. Abbiamo una disequazione fratta non scritta in forma normale. Come prima cosa andiamo a riscrivere in forma normale la disequazione. Portiamo un mezzo a primo membro e mettiamo in evidenza qui a denominatore un 2. E allora scrivo x meno 5 fratto 2 che moltiplica x meno 4 poi meno un mezzo minore uguale di 0. Eseguo ora il minimo comune multiplo. Tiro una linea di frazione. Il minimo comune multiplo è pari a 2 che moltiplica x meno 4. Questa quantità diviso questa quantità è 1 e allora ricopio x meno 5 poi meno ed ho copiato questo segno meno. Questa quantità diviso 2 quello che resta è x meno 4 che ricopio tra parentesi minore uguale di 0. A numeratore abbiamo x meno 5 poi meno x più 4 fratto 2 che moltiplica x meno 4 meno uguale di 0. A numeratore posso semplificare x con meno x. Osservo inoltre che avendo un fattore 2 a denominatore possiamo moltiplicare tutte e due membri per 2. In questo modo semplifico questo 2 a denominatore. A numeratore sommo 4 con meno 5 e si ottiene meno 1 fratto x meno 4 meno uguale di 0. Ottengo così una disequazione fratta scritta in forma normale. E adesso andiamo a studiare il segno del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore, visto che qui vi è un simbolo di uguale, si scriverà numeratore maggiore uguale a 0. Mentre il denominatore si pone soltanto maggiore di 0. Per il numeratore abbiamo meno 1 maggiore uguale di 0. Osservo che questa disuguaglianza risulta essere sempre falsa. Questo vuol dire che non è possibile che il numeratore risulta essere maggiore o uguale a 0. Ciò vuol dire che il numeratore sarà sempre negativo. Passo ora al denominatore. abbiamo x meno 4 maggiore di 0, da cui si ottiene x maggiore di 4. Vado ora a rappresentare il segno del numeratore e del denominatore. Per quanto riguarda il numeratore abbiamo detto che questa disuguaglianza risulta essere sempre falsa, ossia il numeratore è negativo per qualsiasi valore di x. Per il denominatore sappiamo che è positivo per valori maggiori di 4. Individuo 4, addestra più e prima metto meno. Eseguo il prodotto dei segni e si ottiene più, meno. Vado ora a vedere la domanda. Risulta essere questa. Quando questa quantità è minore uguale a 0? Il minore di 0 lo vedi in questo intervallo, ossia per valori maggiori di 4. L'uguale a 0 non è presente nello studio del segno e allora la soluzione sarà x maggiore di 4. Passiamo a questo terzo esempio. Come prima cosa riscriviamo questa diseguazione in forma normale. Portiamo il 7 a primo membro. x meno 9 fratto 3 meno x meno 7 minore uguale di 0. Eseguo il minimo comune multiplo che risulta essere pari a 3 meno x. 3 meno x fratto 3 meno x è 1 che moltiplica x meno 9 e quindi ricopio soltanto x meno 9. Poi devo scrivere meno 7 che moltiplica 3 meno x che moltiplica 3 meno x minore uguale di 0. Ricopio x meno 9 poi meno 21 più 7x tutto quanto fratto 3 meno x minore uguale di 0. x più 7x ottengo 8x e meno 9 meno 21 ottengo meno 30 fratto 3 meno x minore uguale di 0. Ottengo così una diseguazione fratta scritta in forma normale e adesso vado a studiare il segno del numeratore e del denominatore. Visto che vi è anche il simbolo di uguale, il numeratore si pone maggiore uguale a 0, il denominatore soltanto maggiore di 0. E allora per il numeratore abbiamo 8x meno 30 maggiore uguale 0. Porto meno 30 secondo membro, 8x maggiore uguale di 30 e adesso divido tutte e due i membri per 8 semplificando il coefficiente della x. 30 e 8 si può dividere per 2 e si ottiene x maggiore uguale di 15 quarti. Passo ora al denominatore. Abbiamo 3 meno x maggiore di 0 meno x maggiore di meno 3. Moltiplico tutte e due i membri per meno 1 e cambio verso x minore di 3. Vado ora a rappresentare il segno del numeratore e del denominatore. Il numeratore è positivo per valori maggiori di 15 quarti. Individuo 15 quarti a destra più e prima metto meno. In corrispondenza di 15 quarti metto un pallino perché qui vi è il simbolo di uguale. Passo ora al denominatore. Il denominatore è positivo per valori minori di 3. Individuo 3 più e dopo metto meno. Eseguo il prodotto dei segni meno più meno e in corrispondenza di 15 quarti metto un uguale a 0. Vado ora a vedere la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è minore uguale a 0. Il minore di 0 lo vedo qui e qui. E l'uguale a 0 si ha in corrispondenza di 15 quarti. Vado ora a scrivere la soluzione. x minore di 3 vel x maggiore uguale di 15 quarti. Passiamo a questo quarto esempio. Come prima cosa riscriviamo la disequazione in forma normale portando questa frazione a primo membro. 2 meno linea di frazione 6x più 28 fratto x più 2 maggiore di 0. Eseguo adesso il minimo comune multiplo. Risulta essere x più 2. Devo moltiplicare x più 2 per 2 ed ottengo 2x più 4. Osservo che qui di fronte vi è un segno meno quindi questi due termini devono essere riscritti con il segno cambiato. Meno 6x meno 28 maggiore di 0. 2x meno 6x ottengo meno 4x e 4 meno 28 ottengo meno 24 fratto x più 2 maggiore di 0. Ottengo così una disequazione fratta scritta in forma normale. Per risolverla vado a studiare il segno del numeratore e del denominatore. Per il numeratore andiamo a scrivere meno 4x meno 24 maggiore di 0. Porto meno 24 al secondo membro. Meno 4x maggiore di 24. Moltiplico tutte e due i membri per meno 1 e cambio verso. 4x minore di meno 24 ed ora divido tutte e due i membri per 4 semplificando il coefficiente della x. Si ottiene così x minore di meno 6. Vado ora a studiare il segno del denominatore. A denominatore abbiamo x più 2 e allora scrivo x più 2 maggiore di 0. Portando il 2 a secondo membro si ottiene x maggiore di meno 2. vado ora a rappresentare il segno del numeratore e del denominatore. Il numeratore risulta essere maggiore di 0 per valori minori di meno 6 e allora individuo meno 6 a sinistra più e dopo metto meno. Il denominatore risulta essere positivo per valori maggiori di meno 2. Individuo meno 2 a destra più e prima metto meno meno. Eseguo il prodotto dei segni meno più meno ed ora vado a vedere la domanda. Mi viene chiesto quando questa quantità è maggiore di 0. Il maggiore di 0 lo vedi in questo intervallo ossia quando x è tra meno 6 e meno 2. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa dobbiamo riscrivere la disequazione in forma normale portando questa quantità a primo membro e allora x alla seconda più 3 fratto x più 1 poi meno linea di frazione 7x meno 2 fratto 7 minore di 0. Eseguo il minimo comune multiplo che è pari a 7 che moltiplica x più 1. Questa quantità diviso x più 1 resta 7 che moltiplica x alla seconda più 3 ed ottengo 7x alla seconda più 21. Poi meno ed ho ricopiato questo segno meno 7 per x più 1 diviso 7 quello che che resta è x più 1 che moltiplica 7x meno 2 tutto quanto minore di 0. Ora ricopio 7x alla seconda più 21 meno, apro la tonda e devo eseguire questa moltiplicazione. x per 7x ottengo 7x alla seconda, x per meno 2 abbiamo meno 2x, 1 per 7 otteniamo 7x e 1 per meno 2 otteniamo meno 2. Ricopio ora questi termini cambiandoli di segno e quindi 7x alla seconda più 21 poi meno 7x alla seconda più 2x meno 7x più 2 fratto 7 che moltiplica 7 che moltiplica x più 1 minore di 0. Semplifico ora 7x alla seconda con 7x alla seconda sommo poi 2x con meno 7x ed otteniamo meno 5x e poi 21 più 2 otteniamo più 23 fratto, osservo che a denominatore abbiamo questo 7 che possiamo semplificare moltiplicando tutte e due membri per 7. In questo modo semplifico 7 con 7 e quindi a denominatore posso scrivere soltanto x più 1 minore di 0. Ora che ho ottenuto una disequazione in forma normale andiamo a studiare il segno del numeratore e del denominatore. A numeratore abbiamo meno 5x più 23 maggiore di 0. Porto 23 al secondo membro, meno 5x maggiore di meno 23, moltiplico tutte e due membri per meno 1 e cambio verso, 5x minore di 23 ed ora divido tutte e due membri per 5 semplificando il coefficiente della x. Si ottiene così x minore di 23 quinti. A denominatore abbiamo x più 1 e quindi scrivo x più 1 maggiore di 0. Porto 1 a secondo membro e si ottiene x maggiore di meno 1. Vado adesso a rappresentare il segno del numeratore e del denominatore. Il numeratore è positivo per valori minori di 23 quinti. Individuo 23 quinti a sinistra più e dopo metto meno. Il denominatore è positivo per valori maggiori di meno 1. Individuo meno 1 a destra più e prima metto meno. Eseguo il prodotto dei segni meno più meno. Ed ora vado a vedere la domanda. Mi viene chiesto quando questa disequazione è minore di 0. Il minore di 0 lo vedo in questo intervallo e in questo intervallo, ossia quando x è minore di meno 1 oppure quando x è maggiore di 23 quinti. E con questo termino il tutorial su esempi di disequazioni fratte scritte non in forma normale.